Ciao a tutti gli amici dei traficanti, sono il Ciro, fratello del Marco Traficante, del Gosterman, e so cosa si deve pensare. Cosa fa quel deficiente del traficante a Messina, che è da Napoli? Adesso vi spiego. Intanto, come che senti, sono andato a parlare veronese per darvi un omaggio, un saluto, perché questo qua è il mio ultimo video messaggio che vi saluto tutti, perché mi parlo come voi altri, ormai sono veronese anche a me, però sono dovuto scappare, perché ho paura che quando mio fratello Marco scopre che c'è la trisca di Nascondon con la sua morosa cubana, mi occupa. Allora sono dovuto scappare, ho capito il treno per andare a Napoli. Il problema è che mi sono indormentato. A un certo punto, quando ho sentito il profumo del Maro, ho pensato che si era arrivato al Molo Beverello a Napoli, però ho visto il mare che era un'isola grandissima. Ho pensato, aspetti, ma Ischia l'è diventata grande? E per forza non era mia Ischia, era la Sicilia. E il capotreno mi ha fatto dismontare, perché non aveva Ischiei per i biglietti. Infatti adesso questo problema è che sono bloccato qua e non dico a me Ischiai per fare il biglietto per Napoli. Per favore, se potete aiutarmi voi altri, mi mandi un euro a testa, giusto da arrivare a 20 euro, e ho fatto il biglietto e torno a Napoli. E basta. E poi l'ultimo messaggio a mio fratello Marco. Dai, non stai a me arrabbiarti che tu ciavallo amoroso. Alla fine, è meglio una torta in tanti che una merda da soli. Grazie. Grazie.